Ciao raga e bentornati in questo nuovo video, oggi parliamo di Lazio Oggi parliamo del mercato della Lazio, dovevo aver fatto quello da Juve, Atalanta e Inter Che lo potete recuperare nella playlist in descrizione nelle schede Oggi vi parlo di Lazio, come vi ho introdotto poco fa Parliamo di un mercato della Lazio che quest'anno si è arricchito veramente nella realtà Con molti innesti, ma anche molti subri ancora da vendere Quindi oggi cercheremo di fare una Lazio molto competitiva Per adottare in un posto in Champions Detto questo, andiamo subito perché c'è talmente troppa roba da vedere Quindi portiere Reina e Adamonis Con la nostra coscia che io qua l'ho tolto perché non mi ricordo più Comunque l'avevo tolto forse per questioni di mercato E ho deciso di tenere Reina e Adamonis per acquistare Vicario Realmente la Lazio ha preso Maximiano Era anche detto Carnesecchi, l'Atalanta è vera Carnesecchi E' finita in modo rocambolesca, possiamo dirlo Perché Carnesecchi si rompe Poi c'è un tira e mole tra Atalanta e Lazio Che alla fine non porta nulla Perché l'Atalanta, Lazio alza l'offerta L'Atalanta la rialza di nuovo in maniera tale che il circuito non si chiuda E non si chiude neanche il motivo per cui l'Atalanta è un po' diciamo Ha un po' diciamo tirato un po' troppo la molla Forse per la mancata Voleva tenere appunto la corda tesa Per tenere diciamo l'attenzione alta verso appunto il cacciatore E far attirare di più Quel che è un altro pretendente Che mancava Interessata Carnesecchi Perché la Lazio in quel momento era solo interessata a Carnesecchi Comunque chiudendo il discorso portiere Apriamo quello dei difensori Che c'è tantissimo da dire Soprattutto perché la Lazio Io decido di mantenere Luiz Felipe E anche Radu A Cerbi Rimane un punto interrogativo Perché a Cerbi Io ho deciso di tenerlo Ma realmente a Cerbi È in guerra completamente tra società e tifosi Però Sembra Decidano di non andarsene E comunque Si rimane con Vavro, Armini e Kamenovic Spero si dica così Quindi decido che Il riscatto di andare a parte del Copenaghen di Vavro È perfetto E il prestito di Armini arriva Con L'acquisto Che alza la riserve Di un Defray In prestito Che alla fine È in uscita dall'Inter E quindi Perché non prenderlo in prestito Passiamo al capitolo terzini Dove abbiamo appunto Tre terzini Terze terzini di sinistra E quattro di destra Chiaramente La Razio avrà solo due terzini Perché Sari gioca a quattro E quindi serve un sostituto E un titolare Il titolare a sinistra dovrebbe essere Yuzai Con Lukaku Jordan Lukaku E Durmisi Durmisi viene prestato E Jordan Lukaku rimane Considerando che A destra La Lazio A Lazio A Lazio Rimano di Casasola E Anderson Anderson Vabbè Casasola e Anderson Se ne vanno Per accumulare dei soldi Importanti Che la Lazio Cataldi lei va Zicche Zicche Vabbè Vada avanti Savic Luis Alberto Basic Escalante Kine Akpa Akpro Bene Qua decido di vendere Discheck E Escalante Prestando Kine E non toccando assolutamente Nulla Perché la Lazio A centrocampo È perfetta Rispetto a altre squadre Se vuoi proprio aggiungere Qualche elemento in più Servirebbe giusto Un Un giocatore Che ti sappia fare Il barella Della situazione Ma lì c'è già Savic E quindi Direi che ha posto 12 milioni Con Ancora un attacco Da fare Un attacco Che comprende le ali Sia di destra Che di sinistra A sinistra La Lazio Amoro Gioni Cicerelli E Felipe Anderson Qua decido di tenere Moro E Felipe Anderson Prestare Cicerelli E vendere Gioni A destra Decido di fare Un Pedro A De Cagne E prestare Romero Che ha bisogno di giocare Veramente Veramente Tanto Però Appunto La Lazio Qua decidi Di non toccare nulla Ma secondo me C'era da toccare Io decidi Di non toccare nulla Ma qua C'era da toccare Ma i soldi Sono pochissimi Perché comunque Ricordiamo che mancava Ancora un vice Immobile Che adesso Ci arriviamo Appunto Arriviamo alle punte Che Zaccagni Immobile Zaccagni Una seconda punta Che può fare Eventualmente Alla sinistra Ma io Qua Decido di riempire Lo slot Della seconda punta C'è anche Murici Assieme Immobile Murici Decido di venderlo Per prendere In prestito No Per prendere Con i soldi Rimanenti Lucca Lorenzo Lucca Cercato da qualsiasi squadra La Lazio È un acquisto Secondo me Realistico A dir poco E Appunto Non c'è nulla da dire Questa Lazio Potrebbe Giocarsela Per un posto In Champions League Considerando che Attualmente Non abbiamo ancora visto Il mercato del Napoli Lo vedrete Ma secondo me Questa Lazio È candidata Per un posto In Champions League Bene ragazzi Io vi ricordo sempre Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like Recuperarvi Tutti gli episodi Se siete persi Lo trovate sia In descrizione Con le playlist E nelle scale Con i vari video Assimera sempre Alla playlist Se lo volete guardare Dateci un'occhiata Dateci un'occhiata Anche gli altri video Che trovate appunto Nel mio canale Non costa nulla Attivate anche la campanellina Quindi Buon calcio a tutti E buon tutto Ciao